No, Mandelli, Mandelli, la Gian Domenico, Mandelli, il traversone, palla deviata, ginezza, 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 in area di rigore, di rigolo, gol, cinquantunesimo, e questo a te che si conti, il mano nel battacco, il mano nel battacco, era un autogol, ma mai, autogol è la storia del calcio, credo che sia stato come il mondo, scene incredibili, sto assistendo a scene incredibili, cinquantun minuti, trentasette secondi, un modo in assumire di un'inerta, impegnato da un difensore, quali difensore, posso predirmi, a questo punto credo che non interessa nessuno, e ho avuto che il tempo, che la vita poi è buona sola, e mi ricordo che voleva potere la fantasi, e non sono i grandi sogni, sai, erano vere che le utopie, hanno ricordi, giù, sei, chi c'era, e ma queste facce, qui, come dire che è proprio così, come dire che sono quelli, e merito a Mediate che ha rischiato il tutto per tutto, giocando con cinque punte nella fase finale della partita, complimenti a lui e alla sua spada che merita la serie B. E il mondo è una tasca in vantaggio, lo torna a dire, al cinquantissimo e trentasette secondi, neanche gli scopi di un anno, avrete creato un film che è sicuro, sto morendo, sto morendo per cosa mi chiedo, dovevi intervenire qualcuno da lassù, e io in queste cose ci credo, e io in queste cose ci credo, nemmeno per l'amore, ci vuole quello che io non ho, ci vuole pelo sullo stomaco, però ricordo chi voleva un mondo meglio di così, sei proprio tu che ti fai nelle storie, ma dai, cosa vuoi tu più di così? Che cosa conta? Chi perdeva? Le regole sono così, è la vita ed è ora che cresci, devi prenderla così, sì, stupendo, mi viene il vomito, è più forte di me, non lo so, se sto qui, o se ritorno, se ritorno, tra poco, tra poco, tra poco, tra poco, è stato meglio vinto il nostro già ultimo momento, e credo che ce lo accorteremo, con tanti anni, questo pomeriggio crescendo, e loro segui a lei, tutti in Albraio, che mi diamo a lei, perché c'è la vita, ma un attuale, al cinquantesimo ha detto, non è l'ora, però ricordo che mi voleva un mondo meglio di così, Ancora tu che ci fai delle storie, ma dai, cosa vuoi tu più di così? E cosa conta chi perdeva le regole solo così? E la vita è l'ora che cresci, devi viverla così, sì. Stupendo, mi viene il vomito, è più forte di me, non lo so se sto qui o se ritorno, se ritorno. Stupendo, mi viene il vomito, è più forte di me, non lo so se ritorno. Stupendo, mi viene il vomito, è più forte di me, non lo so se ritorno. Stupendo, mi viene il vomito, è più forte di me, non lo so se ritorno. Stupendo, mi viene il vomito, è più forte di me. E credo che giustamente sia legittimo fare festa, anche se manca ancora una partita e bisogna tenere i nervi saldi fino alla prossima settimana. Comunque forse l'ostacolo più difficile era questo. Direi che questo era certamente l'ostacolo più insidioso. Mi pare che il Brescello corre.